Il calcio vittoria cambia ancora. Salvatore Barravecchia lascia la guida della società. Dopo un tiro in molla che è andato avanti per alcune settimane, dopo una rottura che sembrava definitiva, oggi l'ex presidente ha fatto sapere che lascia la squadra. Ha raggiunto l'accordo con Peppe Mascara e da qui a qualche giorno avverrà il passaggio di consegne. Il nuovo gruppo dirigente che si era costituito appena tre giorni fa con il nuovo presidente Pietro Cammalleri lascerà le redini della società dei nuovi dirigenti. È stato lo stesso Barravecchia insieme a Cammalleri è migliore a rendere noto il nuovo corso del vittoria. Rientra il gruppo Mascara, con Peppe abbiamo parlato, quando siamo andati dal sindaco, il sindaco ha riconfermato il contributo, ha riconfermato che è vicino alla squadra, questo mi ha fatto immensamente piacere. Ero d'accordo con il rientro di Claudio la mattina e con il progetto di Claudio si canalizzava con quello mio e con quello mio perché si associava, però giustamente c'era qualcosa che forse lì nel gruppo Mascara non andava bene. Però ripeto, oggi hanno chiamato da due giorni, ci sentiamo con Peppe, mi ha detto che voleva riprendere, mi sistemava tutti gli stipendi di ottobre e quelli di novembre. A questo punto preferisco allora uscirne fuori. Barravecchia ha anche espresso il suo appoggio e la solidarietà ai tifosi colpiti dal daspo della Questura per avere acceso dei fumogeni fuori dallo stadio prima del derby tra Ragusa e Vittoria. I tifosi insieme a Barravecchia hanno riferito che durante la partita i comportamenti sono stati corretti e che questi otto tifosi hanno ricevuto il provvedimento punitivo per tre anni perché hanno acceso ingenuamente dei fumogeni davanti alle telecamere della polizia. Per tutti è stata chiesta una riduzione della condanna.